C'è un po' di tempo prima della partenza della quinta tappa. Paolo, che canta oggi? Cosa canti? Io ho cantato tutti voi. Dopo, domani mattina io canto nuovo. Cosa canta il Barber di Siviglia? Allora c'è la turma di Giovanni. Canta, canta. Paolo, già sta cantando. E in Bocu? In Portugale o in Perù? La Juve, la Juve, la Juve, la Juve, la grande signora. Questa cosa canta quando devo caricarvi? Va bene, carichi. Questa cosa canta quando devo caricarvi?